Sono partito alle 8 e questa mattina a Vicenza e praticamente ho trovato la colonna qui e adesso mi fermo un po'. Un'ora per percorrere 7 chilometri, due ore e mezza fra il casello di Cadola e Longarone. Traffico letteralmente paralizzato stamani nel primo weekend a Bollino Nero per i vacanzieri. Siamo più o meno distanti 400 metri dall'innesto della A27 con la 51 d'Alemagna. Questa è una delle scene a cui oramai ci siamo abituati ma che stanno diventando sempre più frequenti in questa calda estate per la viabilità della provincia di Belluno. Buongiorno, posso sapere dove siete diretti? A Cortina, a Cortina. Questa è una gita turistica? Sì, una gita turistica. Senta, sapeva di trovare questo traffico? No, assolutamente no. Non se lo immaginava? No, no. Siamo già resi, veniamo da San Donato di Piave, quindi da circa un'oretta da qua. Siete diretti? Ad Auronzo. Sapeva di trovare questo traffico? Allora, sapevo ma non avevamo alternative. La prossima volta cercheremo di o anticipare o ritardare, ma così è. Fino al primo pomeriggio le auto sono rimaste imbottigliate a vigiliare sul traffico diverse pattuglie della Polstrada. Da dall'alto il monitoraggio costante della situazione è stato garantito dall'elicottero dei carabinieri del 14esimo nucleo di Belluno. Da dove sta arrivando? Da Treviso, Giavra del Montello. Non si immaginava una colonna? Non l'immaginavo veramente. Non si è informato prima di partire? Sì, sono informato. Una colonna di 15-20 minuti può anche starci. Ma una stratoia del genere, che sono anni e anni che è là, non si risolve mai niente. La provincia ha chiesto e ottenuto la presenza di movieri in corrispondenza dei cantieri stradali sulla 51 e della protezione civile pronta a supportare gli automobilisti, tra i quali l'ipotesi del prolungamento autostradale con un progetto non impattante incontra consenso. Sarebbe favorevole al prolungamento della A27 dell'autostrada fino a centro? Certo, certo che sarebbe favorevole. Come no? Altrimenti tutta la gente cosa deve fare? O rimane a casa, se no non si muove. O va da un'altra parte? Visti i volumi che ci sono di mezzi, sì, sono favorevole, perché si inquina di più così che correre e quindi arrivare anche in maniera veloce alla destinazione. Sono favorevole.